Quindi, benvenuti di volta alla seconda parte del video ora ho capito come funziona praticamente ho dovuto usare il controllo remoto e posso cambiare tutti gli effetti ora ho attivato il microfono quindi quando ho parlato ho cambiato il colore ho provato di mettere la musica senza copiarietà ok ho provato la musica senza copiarietà quindi proviamo wow è come troppo nel disco ok ora hai due effetti che sono il primo ok, ora ho stopto il microfono io posso cambiare il colore io posso cambiare il colore wow è molto bello è molto bello è molto bello è molto rilassante quindi ho usato questo per il streaming di Rambo è molto bello è molto bello è molto bello ciao ciao ciao